La telefonata di alcuni automobilisti è stata tempestiva, poco dopo le 8.20 di questa mattina. Un'auto scura che imbocca contro mano la strada statale 106, la imbocca nei pressi della raffineria dell'Eni, direzione Reggio Calabria. Una pattuglia ha tentato di raggiungere l'auto che intanto sfrecciava veloce dove non poteva. Qualche chilometro l'impatto contro un furgone che procedeva verso Taranto è stato inevitabile. La morte sul colpo per il 68enne che guidava l'auto, mentre l'uomo, un 54enne che si trovava sull'incolpevole furgone, è stato ricoverato al Santissima Annunziata con trauma cranico, versamento pleurico e fratture multiple alle costole. Sul posto dell'impatto nella zona di Chiatona, i sanitari del 118, i carabinieri di Motola, la polizia locale di Massafra e i vigili del fuoco, interrotto il traffico con notevoli disagi per gli automobilisti sulla strada statale 106. Sarà importante appurare per chi di dovere le cause di questa incredibile tragedia accaduta in pieno giorno, con ottima visibilità. Forse un errore fatale, una maledetta distrazione o magari un malore, episodi questi della guida a contromano che negli ultimi tempi purtroppo si stanno moltiplicando.